Ciao dal Museo delle Farfalle. Nella puntata di oggi vi parlerò di una farfalla molto speciale. Parleremo di variabilità, parleremo anche di sesso, di umani e di virus. Voi direte cosa c'entrano, perché queste cose sono tutte insieme, cosa hanno a che fare una cosa con l'altra? In realtà l'argomento di oggi appunto variabilità ha a che fare anche con tutto il resto e dopo arriveremo a delle conclusioni che magari per qualcuno potranno essere anche scioccanti. Per esempio che senza i virus noi non esisteremmo o che senza i virus non ci sarebbe il sesso o che senza i virus non esisterebbe la biodiversità come la conosciamo. Voi direte ma cos'è una puntata a favore dei virus? Assolutamente no. Prima di tutto perché noi ci occupiamo di scienza e la scienza non è a favore di niente. La scienza non prende parti, la scienza si occupa di ciò che esiste, lo descrive. Quindi non dirò che un virus è buono o cattivo, che gli umani sono buoni o cattivi, perché non è questo certo lo scopo di quello che facciamo qua, in questo momento. Ok, cerchiamo di capire cosa c'entrano i farfalle quindi con tutto il resto. La specie di oggi è una specie veramente speciale, scusate il gioco di parole, è la famosa farfalla foglia, callima. È una specie asiatica, ha una particolarità, è una delle specie che meglio imita forma e colore di una foglia secca. Infatti viene chiamata farfalla foglia. Come potete vedere in questa splendida collezione, qui abbiamo tanti esemplari diversi uno dall'altro. In realtà appartengono tutti alla stessa specie. Sembrano tutti delle foglie secche, ma foglie secche diverse, molto diverse. Anzi, guardiamo bene da vicino. No, ce ne sono addirittura alcune che sembrano ammuffite, per sembrare delle foglie secche vecchie. Altre fanno ben vedere le nervature tipiche di una foglia, altre invece no. Qui abbiamo invece un esemplare colorato. Beh, in realtà è un esemplare sempre di farfalla foglia, solo che è visto dorsalmente. In poche parole, questo è cosa vediamo quando la farfalla è l'allia aperta. Ha un colore vistoso perché viene usato per riconoscersi con le altre farfalle della sua specie. Come sapete, i colori nelle farfalle spesso hanno una funzione come quelli del pavone. Quindi far vedere quanto sano e magari esuberante può essere un esemplare. Oppure può servire per manifestare territorialità. Ma comunque, in ogni caso, questa è un po' una regola nelle farfalle. Spesso hanno colori vistosi a dalle aperte. Quando chiudono le ali invece fanno vedere colori totalmente diversi, quelli della pagina inferiore. Perché devono essere diverse l'una dall'altra? Questa è una strategia per meglio evitare i predatori. Come funziona? Un predatore normalmente non vede una farfalla foglia quando è appoggiata su un ramo. Ma se le farfalle foglia fossero tutte uguali, prima o poi qualche predatore imparerebbe a riconoscerle, a capire che quel tipo di foglia secca in realtà è un gustoso bocconcino. In poche parole, il predatore mangerebbe la foglia. Questa la dovevo dire. Se le farfalle foglie sono invece tutte diverse, i predatori non potranno mai imparare a riconoscerle. Quindi la strategia di questo mimetismo criptico alla fine sarà molto più efficace. Ma la variabilità può coinvolgere altre caratteristiche, non solo l'aspetto. Facciamo un esempio. Noi umani siamo molto diversi gli uni dagli altri. Non solo perché proveniamo da posti diversi, ma anche all'interno della stessa famiglia. Mia sorella, per esempio, è nata con i capelli rossi. Nessuno direbbe che siamo fratelli. Quindi anche tra gli umani c'è questa variabilità che riguarda l'aspetto fisico, ma non solo. Io, per esempio, ho un gruppo sanguigno diverso da quello delle mie sorelle. Perché siamo così diversi? Beh, in questi giorni stiamo assistendo a una manifestazione veramente particolare della natura, che è la pandemia appunto di questo virus. Abbiamo sentito parlare molte volte di individui che non si ammalano o di individui che, seppur positivi al virus, non presentano sintomi. Ma come mai qualche individuo si ammala e rischia e a volte può anche morire, mentre altri proprio non hanno alcun sintomo? Proprio perché siamo diversi. E proprio perché c'è una variabilità anche all'interno della nostra specie che riguarda anche la sensibilità alle malattie, ai parassiti, ai virus, ai batteri. Questo ci deve portare a pensare una cosa. Essere diversi, a questo punto, può essere un'ottima strategia della nostra specie. Pensate, se fossimo tutti uguali, un virus potrebbe sterminarci tutti. Invece, essendo così diversi, qualcuno purtroppo non ce la farà, ma comunque ci sarà sempre qualcuno che invece risulterà resistente all'attacco di questi piccoli predatori. Sì, li chiamo predatori perché anche se non sono leoni o tirannosauri, in realtà un organismo che alla fine utilizza il nostro organismo e magari ci fa morire è a tutti gli effetti un predatore. Quindi, questi virus, questi piccoli, piccoli parassiti, sono in realtà il motivo per cui noi siamo diversi, per non soccombere a qualche malattia, quindi a qualche parassita. In che modo riusciamo a essere così diversi? Io sono diverso da mia sorella perché sono nato per riproduzione sessuata e non per clonazione. Quasi tutti gli organismi si riproducono sessualmente. Per molti anni gli scienziati si sono domandati perché esiste la riproduzione sessuata? Non è molto più facile riprodursi per clonazione, come alcuni organismi ancora fanno? Sì, sarebbe più semplice riprodursi per clonazione. Non devi trovare un partner, non devi competere con altri del tuo stesso sesso per trovare il partner e riuscire a riprodurti. Quindi, cosa più importante, potremmo tramandare il nostro DNA senza doverlo diluire con il DNA appunto del nostro partner. Ma il vantaggio di una riproduzione sessuata è così grande che ne vale la pena. Quindi, anche la riproduzione sessuata esiste perché esistono le malattie, perché esistono i virus, perché esistono i batteri. In natura notiamo anche un altro fenomeno che probabilmente è dovuto proprio alla pressione da parte dei parassiti, dei patogeni, quindi anche di virus e batteri, e riguarda la densità di popolazione. Vi racconto una mia esperienza. Quando ero giovane, molto giovane, direi un adolescente, ho allevato le mie prime farfalle. Le prime farfalle, tra le prime c'erano due falene, due bruchi di falena, di Saturnia Pavonia, al tempo si chiamava così, che ho allevato su rovo, sulla terrazza di casa mia. Avevo due bruchi, le ho messi sulla pianta, loro hanno mangiato tranquillamente, si sono diventati grandi, hanno raggiunto l'ultimo stadio, si sono imbozzolati e da lì sono nate due splendide farfalle. Io pensai, è molto facile allevare farfalle, io ho preso due uova e guarda adesso due splendide farfalle, la prossima prossimo anno, sai cosa faccio? Ne produco molte di più. E infatti l'anno successivo mi procurai un centinaio di uova di questa Saturnia e cominciai ad allevarla. La mise sempre sul rovo, i piccoli bruchi cominciarono a crescere, finché un giorno arrivarono dei passerotti, degli uccelli, che io pensavo mangiassero solamente i semi o il pane, in realtà mangiano anche insetti, che hanno trovato i miei bruchi sulla mia pianta di rovo, sulla mia terrazza. E cosa successe? Beh, innanzitutto li trovarono perché erano così tanti che erano molto visibili. E se li mangiarono tutti. E io riuscì a vedere proprio l'attacco da parte di questi uccelli che andarono sotto ogni foglia proprio per verificare di non aver dimenticato nessuna preda. Finché i bruchi erano due, erano poco vistosi, riuscivano a nascondersi e quindi sono riusciti a sopravvivere fino allo stadio adulto molto più facilmente. Appena io li ho allevati in massa, sono diventati molto più visibili, perché erano tanti, e non sono riusciti a resistere all'attacco dei predatori. e io li ho persi tutti. Ho anche un'altra storia da raccontare. Qui alla Casa delle Farfalle alleviamo ogni anno tante farfalle. All'inizio abbiamo cominciato ad allevarle in massa, perché avevamo 100-200 esemplari della stessa specie, li mettavamo tutti insieme, così davamo da mangiare a tutti, e facciavamo meno fatica, era più semplice, era un allevamento in batteria. Cosa succedeva? Che più facilmente morivano tutti. E di che cosa? Non lo sapevamo. Vedevamo semplicemente questi bruchi che cadevano al suolo senza vita. Alla fine abbiamo capito, studiando, che si trattava di malattie, batteri o anche virus, che più facilmente si diffondono quando c'è un'alta densità di popolazione. Quindi abbiamo imparato che per allevare le farfalle dobbiamo dividerle in piccoli gruppi. Perché? Perché se sono troppe tutte insieme, come successe per i miei bruchi sulla terrazza, che vennero trovati più facilmente dai passerotti, quindi dai loro predatori, anche per virus e parassiti succede la stessa cosa. Se alleviamo tutti insieme questa grande quantità di bruchi, è più probabile che si ammalino e rischiamo di perderli tutti. In questi giorni, molti mi chiedono un parere da biologo su questo virus. Quello che posso dire è che, per la mia esperienza, quando si alleva un animale in batteria, in massa, aumenta esponenzialmente il rischio che arrivino delle epidemie di patogeni che possono essere anche letali, come è successo a noi per i bruchi. Questa volta mi sa che è successo anche a noi umani. Forse è un problema di densità di popolazione. In effetti siamo quasi 7 miliardi e mezzo e continuiamo ad aumentare in maniera esponenziale. Da biologo non mi sembra strano perché allevo insetti e quando possono gli insetti si riproducono quanto possono. Ma da umano devo dire anche una cosa. Forse è il caso che noi umani cominciamo anche a pensare al problema della densità di popolazione perché forse se non lo facciamo facciamo la fine dei nostri bruchi. E devo dire che sempre da umano mi stupisce il fatto che nessuno ancora ne stia parlando. Invito quindi tutta l'umanità a fare tesoro di quello che la natura ci insegna. Ci vediamo alla prossima puntata. Conto di essere qua anche domani. Ciao. Ah, dal MUFA il museo delle farfalle e delle falene con tre F.